E' intitolato San Matteo e raffigura il santo patrono delle fiamme gialle che protegge un finanziere impegnato in attività di vigilanza doganale alle frontiere sui confini montani. E' questo l'ultimo dipinto realizzato dall'artista fanese Sergio Carboni e consegnato al comandante provinciale della Guardia di Finanza Antonino Raimondo. Alla consegna era presente una numerosa rappresentanza del personale tra ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri nonché alla presenza del cappellano militare. La donazione è avvenuta in occasione della solenne celebrazione del precetto pasquale Interforze che si è svolta nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Pesaro. L'opera ha un profondo significato storico per la Guardia di Finanza perché richiama sin dalle origini le funzioni di vigilanza finanziaria sui confini del corpo. Il dipinto verrà custodito nella caserma della Guardia di Finanza di Fano.